Cesare, ma cosa stai facendo? Siamo in onda. Lorenzo, sei tornato allora, sento. Eh sì. Sto finendo di sistemare la nuova scenografia di Stato dell'Arte. Hai visto quante novità e nell'ultima puntata abbiamo anche ballato qui in studio il flamenco. Ti sei perso anche questo, però questa sera non ti perderai le drag queen più famose della televisione italiana, le Karma B. Oh bene, ormai siamo in varietà, allustrini e tagliette. Beh sì, e lo sai cosa c'è sotto i lustrini e le paillette? No, e non voglio neanche saperlo in realtà. Ma come Lorenzo, c'è la creatività contemporanea, infatti cominciamo con un grande creativo, è la rock star della scultura contemporanea, è Iago, che ha appena inaugurato una sua mostra a Palermo a Palazzo Reale. E indovina chi c'era a riprendere tutto in prima fila? Sky art. Ma che sky art, Lorenzo! C'era ovviamente Stato dell'Arte Cusano Italia TV. Guarda un po'. Un bambino di marmo bianco, rannicchiato in posizione fetale, è posizionato fino al 3 giugno al centro del cortile Macheda del Palazzo Reale di Palermo, rivolto verso uno dei luoghi spirituali più importanti al mondo, la Cappella Palatina, simbolo della convivenza fra culture e religioni diverse. Si tratta della celebre opera Look Down, chiaro invito a guardare in basso, realizzata da Iago e voluta a Palermo dalla Fondazione Federico II. Il feto rappresenta lo sguardo dell'arte, rivolto ai più fragili, in antitesi all'indifferenza. La dignità di un essere umano che indica ed è simbolo della fragilità, che raccoglie su se stesso tutta l'umanità e implora un'assenza di indifferenza. Mi piace dirlo così. Oriana Fallaci, nel suo Lettera a un bambino mai nato, comincia con l'interrogativo angoscioso. Basta volere un figlio per costringerlo alla vita? Piacerà nascere a lui? E poi, nel tentativo di avere una risposta, la donna incinta, protagonista del libro, spiega al bambino quali sono le realtà da subire entrando in un mondo, dove la sopravvivenza è violenza, la libertà è un sogno, l'amore è una parola del significato non chiaro. A tutti i bambini vittime incolpevoli, abbandonati, soli, usati, stuprati, senza più un'identità, orfani, senza un tetto sotto cui vivere e talvolta senza neppure una scuola, né giochi, proprietari solo di un futuro incerto, è dedicato il look down di Iago, senza rinunciare però alla speranza di un domani migliore ancora possibile. È questo il senso della cerimonia di svelamento della scultura al cortile Macheda del Palazzo Reale di Palermo, che per la prima volta ha commosso Iago. Ho pianto, devo dire questo, non mi è mai successo nella mia vita, cioè è una cosa sconvolgente, è una cosa anche meravigliosa, devo dire, perché poi subito dopo ho riflettuto, è come un fiume che, cioè una diga, che c'è una diga, è una diga probabilmente emozionale di carattere, che si è rotta, si è aperta, quindi è uscita dell'acqua, e quindi tu puoi star lì e osservare, provi a mettere il tappo ma non ce lo metti, quindi succedono queste cose. Te lo potevo riassumere soltanto così, queste sono le mie emozioni, sono travolto, sto lì che adesso cerco di surfare, invece prima ero sommerso da questo fiume in piena, adesso ho tirato la testa fuori, mi metterò un po' a riva per riposarmi, poi rinizierò a surfare e poi spero di diventare bravo a surfare, perché credo che qui, insomma, le emozioni ce ne saranno tante, quindi o surfi o ti lasci travolgere, io sono uno che gli piace surfare. E noi ora continuiamo a parlare di bambini, perché sono loro la nostra migliore speranza per il futuro, sono i figli, le figlie, e a loro vogliamo dedicare dei versi davvero speciali, sono i versi di un grande poeta contemporaneo, Gibran, versi che ci leggono le fantastiche Karma B. I vostri figli non sono figli vostri, sono i figli e le figlie della forza stessa della vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi, dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la casa dell'avvenire, che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. Grazie, grazie alle Karma B che saranno protagoniste di questa puntata, quindi tra poco interverranno nel nostro programma. Almodovara ha dedicato tutto a sua madre. Noi dedichiamo la puntata alle fantastiche Karma B, ovviamente dopo la sigla. Buonasera a tutte e a tutti. Allora cominciamo con le drag queen più famose della televisione italiana, le Karma B, che noi vogliamo raccontare così. Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi, questo è il loro vero nome, si definiscono creature mitologiche. Metà esseri umani, metà Raffaella Carrà. Sono le Karma B, le drag queen più famose d'Italia. Due ragazzi che si sono uniti artisticamente dalla fine degli anni 90 e che sono riconosciuti per le loro ricercate performance in club tv, teatro, film comici e video musicali. Con la loro arte, le Karma B sono anche portavoci della comunità LGBTQIA+, italiana nel mondo. Il loro attivismo mediatico è passato negli ultimi anni da programmi tv come All Together Now, Italia Si, da noi a ruota libera, propaganda live, Ciao Maschio, proseguendo per l'International Journalism Festival di Perugia e il Wild Festival di Firenze e questa sera sono stato dell'arte. Con i travestimenti hanno raccontato giochiamo sull'ambiguità senza negare la nostra natura, siamo quel che siamo, non trans ma regine per una notte. Drag queen vuol dire questo, personaggi estemporanei fatti per stupire, per lo spettacolo. Ora la gente ha capito che la nostra è una forma d'arte, inventiamo un personaggio e lo mettiamo in scena, un'opera di pura fantasia. Calato il sipario, ti strucchi e infili l'uscita posteriore del teatro in jeans, come tutti i giorni. Eccole qui a Stato dell'Arte, questa sera le Karma B. Bentrovate? Buonasera, buonasera, buonasera. Grazie di questo invito. È per noi un piacere e un onore, come anche un piacere e un onore, avere Giulia Caruso, che è una giovanissima product manager nel campo della cultura. Poi Giulia capiremo meglio che cosa fai nel settore della cultura. Allora, cominciamo con le Karma B. Innanzitutto, da dove viene questo nome? Ah, allora, questo nome ha una storia. Tanto per cominciare, questo nome ha una madrina importante, perché Vladimir Luxuria ci aiuto a sceglierlo. In realtà è molto semplice. È una crasi dei nostri due nomi di battesimo, che sono, come sentivamo nel video, Carmelo e Mauro, quindi Karma, con la K, perché comunque era una cosa un po' più internazionale internazionale e fa assonanza con il Karma. E poi B, perché è la seconda lettera dell'alfabeto, è il lato B delle cose, è il prefisso per tutto ciò che è doppio. Insomma, il nostro nome ha un significato. Anche noi abbiamo tante lettere a partire da questa sera nel nostro studio. Anzi, ringrazio tutto il comparto degli scenografi, delle scenografe di Cusano Italia TV. Voi state vicino ad una lettera importante, la L, la L di Libertà. Allora, ci descrivete intanto l'incontro proprio con Vladimir Luxuria? L'incontro è stato... Il primo. Il primo è stato molto molto semplice. Noi venivamo dalla Sicilia, avevamo fatto nel 96, avevamo fatto quest'estate a Riccione, dove veramente avevamo lavorato come gemelli coreografici, non avevamo ancora nemmeno un nome e siamo arrivati con tutte queste foto stampate di tutta un'estate di lavoro e abbiamo detto a Vladimir Vladimir, questo è il nostro... Noi lavoriamo da tantissimo tempo, le abbiamo fatto vedere queste foto, in realtà erano le foto di un mese di lavoro. Però ogni sera con look diverso. Ogni sera con look diverso. E lei ha detto, bravi, in effetti siete molto creativi, di qua di là vi voglio a Mucca Assassina. E quello è stato il nostro incontro. Poi dopo tanti anni ci ha detto che aveva capito, l'avevamo un po' fregata, però insomma... È stato un inganno a fin di bene. Aveva apprezzato molto la nostra faccia tosta all'epoca. Quando nascono le Karma B? Ma allora, direi da subito, da quando ci incontriamo, da quando ci conosciamo, diciamo che in Nuce c'era già tutto. Noi ci siamo incontrati perché ci siamo innamorati. Quindi c'è una storia d'amore all'inizio. Com'è andata? E' andata semplicemente che lui mi ha rubato al suo migliore amico. Dai, ma che cosa dici? No, non è vero, non è vero. Erano le prime feste a Catania, le prime feste del GBTQA+. Lui lavorava già come animazione, ero lì come utente, ci siamo conosciuti, ci siamo visti, ci siamo innamorati. In realtà ancora prima all'Archigay, all'associazione, che poi ha organizzato queste feste, questo per ribadire l'importanza dell'associazionismo nel connettere insieme le persone. E da lì poi la nostra storia è andata di pari passo con il nostro percorso artistico. La storia sentimentale poi si è trasformata in una amicizia, in una forma familiare. Di sorellanza, di fratellanza. Dipende da come siamo vestiti. Però da allora non ci siamo mai più lasciati. Sono passati 30 anni che abbiamo celebrato il 27 novembre scorso. Sul vostro sottopancia abbiamo letto che siete artisti in drag. Che cos'è l'arte in drag? Il drag è un linguaggio, come tutti i linguaggi, quindi anche un linguaggio artistico, che noi utilizziamo e che abbiamo utilizzato nel corso della nostra carriera in vari modi. Quando abbiamo iniziato a lavorare appunto in discoteca, lo utilizzavamo in maniera più performativa, più estetica. Nel corso degli anni, con la maturazione anche personale, interiore e artistica, invece abbiamo sentito la necessità di avere anche altre forme di espressione. Quindi abbiamo continuato a utilizzare quel contenitore, però aggiungendo dentro la musica, Mauro suona la chitarra, la fisermonica, la recitazione, perché abbiamo inserito la parola nel nostro spettacolo. Il canto. Il canto, chiaramente. E tutto questo insieme è diventato il nostro nuovo modo di essere le Karma B. Quindi come artiste ci siamo evolute sempre mantenendo il linguaggio drag, ma anche questo linguaggio drag è cambiato nel tempo. Questo per noi adesso è un personaggio che racconta delle cose, che ha una voce. Quindi per quello ci definiamo artisti in drag. Voi avete dichiarato che l'arte oggi è una vera forma di resistenza. Cosa intendete esattamente? Allora, guarda, io mi riaggancerei a episodi molto recenti. C'è stata una grossa polemica a Sanremo perché alcuni artisti hanno usato la loro voce per prendere posizioni riguardo a delle posizioni, passatemi il gioco di parole, impopolari, scomodi, difficili da ennucleare. Ecco, questa è l'eterna diatriba fra il senso che noi vogliamo dare all'arte e quindi gli artisti. L'arte debba essere puro intrattenimento oppure debba avere un contenuto e soprattutto una funzione sociale. Noi pensiamo personalmente che l'arte debba avere una funzione sociale, non voglio dire educativa, però di esplorazione. Ecco, diciamo così, gli artisti dovrebbero dare, secondo noi, degli strumenti perché poi la gente, il pubblico, i fruitori di quest'arte possano addentrarsi un po' nel pensiero che l'arte esprime. La vostra ricerca parte dagli abiti. Che realizzate voi? Sì, allora, adesso, proprio in questo preciso momento, no, abbiamo degli abiti di stilisti oppure di sartoria. La ricerca della forma in cui noi ci esprimiamo, in cui noi artisti in drago, in cui ci esprimiamo, è molto importante perché forse la conferma più evidente del fatto che la forma è contenuto. Nel senso che l'aspetto esteriore chiaramente comunica qualcosa. Quello che comunica lo scegli tu, lo decidi tu, o realizzando le tue cose oppure scegliendole. La drag queen più famosa del mondo, ovvero RuPaul, dice siamo nati nudi, il resto è drag. Vale a dire che ognuno di noi, ogni giorno, ogni mattina, sceglie l'abito e la forma da indossare per comunicare qualcosa agli altri. Giulia, cosa ne pensi dell'arte in drag? Beh, sono una fan, sono una fan delle karma vive, penso che l'arte in drag sia comunque una grande espressione di libertà, appunto, di amore, di colore, quindi credo che sia un'espressione artistica veramente meravigliosa. Onestamente anche durante i Pride sei un qualcosa che trascina, trascina anche le folle, diciamo, trascina le persone. secondo me è anche un'arte che in qualche modo con la sua ironia riesce ad avvicinare forse anche i più scettici alcune volte, no? Quindi, sì. E infatti siete seguitissime sui social. Quali sono i messaggi principali che volete trasmettere? Allora, sui social in particolare creiamo un rapporto di empatia e di totale, non dico uguaglianza con i follower, però di rapporto diretto che per noi è fondamentale. Tanto che preferiamo chiamarla community anziché follower. Esattamente. La nostra è una community di persone diversissime fra loro perché ci sono persone etero, persone gay, persone lesbiche. Cioè, non abbiamo una community fatta solo di settore. Per fortuna. Per fortuna. Perché poi deriva anche dall'esperienza televisiva, no? Se abbiamo fatto una trasmissione su Rai 1 allora iniziano a seguirti delle persone che magari sono i classici ascoltatori della Rai. E poi l'arte è universale per natura. Esattamente. La cosa bella che ci succede è che, per esempio, anche attraverso le risposte ironiche che facciamo ai commenti degli haters troviamo un modo di comunicare alle persone di dire semplicemente anche tu puoi rispondere a queste cose e non sempre si hanno le spalle larghe come ce le abbiamo noi abbiamo comunque una vita di lotta alle spalle. invece ci sono dei ragazzi molto giovani che questa cosa la stanno vivendo in questo momento e che magari non hanno gli stessi strumenti allora noi cerchiamo di fornire quegli strumenti con la nostra ironia chiaramente che è poi l'arma forse più potente che esiste. Qual è il commento che vi ha sorprese favorevolmente e quello che vi ha sorprese di più negativamente? Allora, positivamente io credo poi magari negativamente se vuoi dirlo tu però positivamente più che un commento social ci ha sorpreso fare il nostro spettacolo dal vivo perché siamo stati in tournée con questo spettacolo che si chiama Maschie e che tornerà in tournée fra poco e la cosa più bella è la persona magari che viene a vedere lo spettacolo la signora di 70 anni e a fine dello spettacolo si fa la foto e dice grazie perché mi avete aperto un mondo questo secondo me è proprio come dire ho fatto il mio lavoro adesso so che sto facendo qualcosa di giusto far capire alle persone che probabilmente spesso sono anche distratte dalla loro vita non sono solo omofobe o ignoranti le persone possono anche essere semplicemente non attente quindi mettere un punto di attenzione sul nostro mondo a persone che magari invece non ce l'hanno perché appunto sono distratte questo è un grande punto d'onore per noi negativamente poi è possibile sceglierne uno mi dispiace ci dispiace sempre un po' la gratuità del commento malevolo cattivo perché sai chi la pensa diversamente è sempre il benvenuto noi siamo aperti al dialogo dialogo vuol dire che devi confrontarti con opinioni anche diverse dalla tua anzi soprattutto con opinioni diverse dalla tua se no è un soliloquio in due o in più persone però la cattiveria è un'altra cosa la gratuità quella cattiveria gratuita è sempre sgradevole ma come diceva il grande Costanzo la madre dei somali è sempre in città e l'hai detto in maniera edulcorata assolutamente allora voi vi siete definite creature mitologiche metà esseri umani e metà Raffaella Carrà cosa rappresenta Raffaella Carrà mentre adesso la vediamo in alcune immagini allora questa è una definizione di quello che siamo che abbiamo coniato noi fuori di metafora vuol dire molto semplicemente che noi siamo artisti uomini in drag che amano talmente tanto le donne da mettersi letteralmente nei loro panni e ahimè nelle loro scarpe che sono parecchio scomode la Carrà perché? primo perché chiaramente noi interpretiamo un certo senso un certo modo di essere femminili non è l'unico modo di essere femminili dopodiché noi interpretiamo la nostra percezione e la nostra femminilità che è qualcosa che attiene a tutti gli esseri umani a prescindere dall'identità di genere e dal sesso biologico ma è vero che vi definite femminiliste? allora questo è una parola difficile femminilista siamo degli uomini femministi questo sicuramente vuol dire questo femminilista siamo degli uomini femministi quindi sosteniamo la causa femminista a tutti gli effetti da uomini quindi da persone che possono solo sostenere la causa ovviamente non parlare al posto delle donne perché le donne sanno parlare bellissimo da sole però diciamo ci mettiamo al loro fianco in tutte le battaglie che ci in qualche maniera ci uniscono perché poi la nostra è una battaglia intersezionale cioè noi ci mettiamo al fianco di una serie di lotte che crediamo siano giuste da sostenere per quanto riguarda la Carrà oltre a essere un'icona di libertà così grande perché è stata una donna che non è stata moglie di mamma di cioè è stata una donna che si è fatta letteralmente da sola e che si è fatta rispettare come donna nel mondo dello spettacolo abbiamo un piccolo aneddoto che ci riguarda eravamo arrivati da pochissimo a Roma forse neanche completamente trasferiti a Roma sempre quel periodo lì di Vladile dalla Sicilia sì esatto dalla Sicilia e bazzicavamo lì in zona Piazza del Popolo eravamo andati a fare un'audizione o qualcosa del genere e mentre stavamo per prendere la metro abbiamo avvistato da lontano una signora che assomigliava a Raffaella Carrà con un trench barber con un trench di barber con questo stivaletto anni 70 questo caschetto e noi la guardavamo lei ha notato che la guardavamo ha sorriso con la sua risata inconfondibile e ci ha detto di avvicinarci e ha detto venite qui fatemi compagnia mentre aspetto il taxi noi figurati ragazzini terrorizzati è stata una persona deliziosa una donna splendida una grande professionista e ci ha salutato poi con il migliore augurio che potesse fare ossia dandoci la responsabilità di quello che saremmo diventati mi raccomando studiate studiate sempre e poi ci ha augurato buona fortuna qual è stato il nostro benvenuto a Roma noi adesso vi vogliamo ascoltare nel vostro singolo vive con qualcosa in più di cosa si tratterà ascoltate e anche guardate e adesso è il momento dello spettacolo live a Stato dell'Arte ed è il momento della presentazione un po' alla Sanremo quindi Lorenzo mezzo busto all'americana mi raccomando di Gloria Gaynor I will survive cantano le Karma B questo è un brano che non solo è diventato un inno di resistenza per la comunità LGBTQ+, ma noi abbiamo voluto anche reinventarlo a livello vocale e quindi questa è la nostra versione di I will survive at first I was afraid I was petrified kept thinking I could never live without you by myself but then I spent so many nights thinking how you did that wrong and I grew strong and I learned how to get in alone and so you're back from outer space I just walking to find you here with a sad look upon your face I should have changed your stupid luck I should have made you leave your key if I had known just one second you'd be back to bother me oh I'll go walk out the door please turn around now cause you're not welcome anymore why don't you the one they try to hurt me with goodbye you think I'm trouble you think I'll lay down and die oh no no I I will survive oh as long as I know how to love I know I stay alive I got all my life to live and I got all my love to give and I'll survive I will survive I, I, I will survive I, I, I E viva le Karma B, facciamo sentire anche dal nostro dietro le quinte un bellissimo applauso. Grazie, troppo gentili, troppo buoni. Che cosa rappresenta per voi questo brano? Perché l'avete scelto? Beh, diciamo che principalmente appunto a Will Survive, quindi sopravviverò, spesso è quello che un po' tutte le persone della nostra comunità, ma non solo, devono fare, è un percorso che devi fare nella vita, quello di imparare a sopravvivere attraverso una serie di ostacoli. Vale per tutti. Esattamente, vale per tutti, vale anche per donne. Come dicevamo prima, abbiamo fatto questa versione, che in realtà è una versione che ha una linea melodica diversa, non è un semplice controcanto, e volevamo provare che effettivamente voci apparentemente diverse possono coesistere tranquillamente sulla stessa linea armonica. E questo ha anche un valore simbolico, no? Molto. La bellezza della diversità, della polifonia, delle voci, ma non solo. Adesso vogliamo mandare in onda una locandina, quella di maschie. Quello che gli uomini non dicono, uno spettacolo a cui tenete molto. Di cosa si tratta? Che cosa non dicono gli uomini? Lo vogliamo sapere? Quello che non dicono... Lo dovete scoprire venendo a teatro. Lo dovete scoprire venendo a teatro. Diciamo che veniamo tutto da questa prima parte della tournée, che è stata incredibile, e abbiamo avuto veramente un affetto dalle persone incredibili. Maschi è una stand-up comedy che incontra un concerto, che incontra una lezione magistralis, e tutto insieme diventa appunto questa ora e mezza di divertimento, ma anche di riflessione nei confronti della nostra società, della mascolinità tossica, di tutte queste argomenti che per fortuna oggi si affrontano, anche sui social, e proviamo a parlarne con ironia ecco, di questi temi. Voi siete proprio delle esperte di maschiologia, quindi c'è una nuova scienza. Ci potete dire qualche segreto sui maschi? Allora, noi nello spettacolo appunto rivestiamo il ruolo di queste maschiologhe, queste due studiose, che prendendo parte un po' di entrambe le identità, si possono permettere di avere un punto d'osservazione privilegiato su entrambi i versanti. Detto ciò, chiaramente è un butad, un divertimento. Noi non pretendiamo di analizzare, di classificare, di catalogare i maschi in quanto persone. Facciamo una velata, ma neanche troppo, critica al sistema, al sistema di maschilismo, al sistema intriso di patriarcato, eccetera, eccetera. La critica al sistema non è critica alle persone, ma diciamo che questo sistema necessita di essere un po' aggiornato, giusto? Assolutamente. Facciamo un refresh. E per questo motivo facciamo anche ogni giovedì sera stato dell'arte. Voi avete dichiarato che sotto il vostro vestito c'è un cuore, e fin qui tutto bene, ma anche, ascoltate, un dito medio alzato. Contro chi? Le parole sono un dito medio per il loro odio. Ora, chiunque si riconosca in questo loro, evidentemente sta dalla parte degli odiatori. Noi diciamo sempre che crediamo nel potere della gentilezza, nel potere dell'ironia, ma crediamo anche nel potere, se qua il regista mi mette un bip, nel potere del... perché quando ci vuole di mandarli a quel paese bisogna essere fermi e issare il dito medio quando serve, perché è un paletto che tu metti di fronte alla stupidità dell'odio altrui. Come per le ricette di cucina, QB, quanto basta. Quanto basta, d'accordo. Ci piace, ci piace, lo aggiungeremo. Voi rimanete qui con me, con noi, perché c'è anche Giulia Caruso. Le nostre drag, le nostre fantastiche Karma Beach ci accompagneranno per tutta la puntata. Ora è il momento della reclam, e poi subito dopo un ospite davvero speciale. Pensate che ha venduto più di 35 milioni di dischi e ha scritto canzoni per Laura Pausini, Mina, Adriano Celentano, Gianni Morandi, Fiorella Mannoia, Patti Pravo, Loredana Bertè e per tanti altri artisti e artiste. Volete sapere chi è? Lo scoprirete dopo la pubblicità. Pochi minuti, pochi, pochi, pochi. Grazie a tutti.